bella a tutti ragazzi shogari benvenuti in kiwi benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti oggi al video su ostia comics ragazzi mi trovo qui a ostia comics precisamente allo skate park di ostia comics come potete vedere ci stanno i ragazzi che vanno su skate e io se faccio una cosa del genere me so già ammazzato quindi andiamo a vedere in giro cosa c'è sta qui all'ostia comics ragazzi andiamo a vedere andiamo e poi ci sono pure queste altre cosplayer che sono arrivate ora come te chiamo? Rin tu invece? aspetta fammelo allungare che sennò non mi si vede bene perché avete scelto questi personaggi ragazzi? ma che zia stai a morire fatti vedere poi tu c'hai questa mantella c'hai zia che stai a fare la colla stai a fare tu invece perché sto personaggio? perché ti piace? perché ti piace giochi a basket? no c'è sta con la nina così vieni dagli hawaii vieni ah sì da dagli hawaii a ostia vabbè raga poi invece ci stanno questi altri due che pensano di scamparsela e invece perché è scelto sto personaggio ragazzi? eh lascio le lezioni delle cose che potremmo mettere ma non voglio te pegarlo tu invece? come te chiami innanzitutto? tuo personaggio come sei chiamata? Saccarosi Saccarosi sì ma che sta a dire? poi invece c'è un altro cosplayer perché tu sei un cosplayer giusto? che personaggio è il tuo? MAKOTO NIJINO come? MAKOTO NIJINO MAKOTO NIJINO perché hai scelto questo personaggio? perché è un personaggio che mi rappresenta tipo? tipo è un personaggio forte che studia molto sei studioso? sei intelligente? brava brava senti è la prima volta che vieni qua? no siamo andati brava altre fiere che sei andato? non so e chi hai portato l'ultimo rome? che hai portato? sei messo personaggio no? sì la lezione che io gli do vi ho portato vabbè ti piace questa fiera qua? anche se non sei andata qua? non ti piace a te male? sono anche altri giorni ha ragione ha ragione che personaggio è? come te chiami? Ren? Ren perché sei questo personaggio? perché la pelle perché la pelle ma i capelli sono tuoi? come la parrucca avrei giurato che erano i tuoi senti è la prima volta che vieni qua? senti è la prima volta che vieni qua? senti è la prima volta che vieni qua? non te ne ricordavi? non te ne stava senti la prima volta che vieni qua? ti piace? si l'ultima fiera che sei andato qual è? a Rovi a Rovi chi hai portato? a Rovi quello di Zettono hai visto? ci sono arrivato dai questo personaggio perché? non ho mai detto perché ti piace? si come te ragazzi ragazzi c'è sta oggi dai e vabbè vabbè dai è la tua ragazza giusto? e tu sorella? si no no vabbè ragazzi non ci siamo infuciate sono infuciate ragazzi mi sto a fare il bubble tea qui dallo stand di Nerd Yourself che ma fanno pure i bubble tea fanno ma uso piatto pesca con bubble pesca in melone ma vediamo vediamo com'è raga ma vi faccio vedere posto raga il bubble tea il bubble tea è fatto raga il bubble tea è fatto ma vi faccio vedere com'è sto bubble tea che cosa vuol dire? non lo ha detto ma lo ha detto non lo ha detto non lo ha detto ragazzi bubble tea di Nerd Yourself ragazzi ma se mi sa fa pure bubble tea qui nelle fiere intanto ragazzi io bevo sto bubble tea e poi vi faccio vedere gli altri cosplay che ho dato fastidio eh poi invece c'abbiamo quest'altro cosplay un cosplay di di cosa? di Top Gun no Giolliro, sono ignoranti, signorantone sono. Come te chiami zi? Io? Io mi chiamo, diciamo che faccio parte di una comunità virtuale di muro, il quarto storimo virtuale, mi chiamo Vipers. Vipers, invece il tuo nome come te chiami tu? Andrea. Tu Andrea, oh vedi. Egnè, perché hai scelto sto personaggio? Perché Vipers nel primo film è l'istrutto di Tom Cruise. Ah, vedi. Di Mauro, perché chi c'è? Di Mauro, ho capito, ho capito. La prima volta che vieni qua, no? Anche l'anno scorso. Eh beh, l'ultima fiera che sei andato, qual è stata? L'ultima fiera che sono andato, mi pare, al meccanismo giapponese, però non è proprio una fiera, però l'ultima è Romix. Romix, e che hai portato a Romix? Sempre questo personaggio? Che hai portato? Giollto. Bravo, vabbè raga, quindi com'è che saluta, com'è che saluta tutto il personaggio? Il mio lavoro. Eh, come qua. Qui ragazzi c'è altri che si stanno a pausa, ti ecco il boccone in bocca. Tu sei in live. Tu sei in live, io sto a far video invece, sto a far video invece. Ah, cornuta, eccola, la cornuta, eccoci. Come te chiami, sì, come te chiami? Kira. Kira. Il tuo personaggio invece? Power. Flower? Power. Ah, power, come Power Ranger diciamo, però il Power Ranger cornuto diciamo. Senti, ma perché hai scelto sto personaggio? Perché è bello e non mangia le verdure. Non mangia le verdure, che ti piace mangiare? Che ti piace mangiare? La salsizza, ti piace mangiare la salsigiene? Che ti piace mangiare? Eh, niente, tutto tra le verdure. A granita? Senti, ma è la prima volta che vieni qua? No, la seconda. Seconda volta. L'ultima fiera sei andata a Roma. Dove sei andata l'ultima fiera? Mercatino giapponese. Mercatino giapponese, poi faremo un video anche lì per il mercatino giapponese. Ma andiamo a fare qualche altro cosplayer, ragazzi. Andiamo e qua invece siamo con un'altra cos... Ah, fammi sede, fammi sede, ah, con un'altra cosplayer siamo. Qual è il tuo, come te chiami? Sì, mi chiamo Carlotta, a piacere. Carlotta, invece il tuo cosplay come si chiama? Il tuo personaggio. Come? Oshigior Arena di Love Live. Oshigior Arena di Love Live. Ah, finalmente, che qua sono tutti dei Genshin Impact sono. Ormai va di moda. È una moda, sì, io ho detto, quando capirò e mi piacerà pure a me Genshin Impact, sarà passato di moda e non so un culerà a più nessuno. È sempre così, tutto così va. Senti, ma perché è scelto sto personaggio? Perché mi piace, poi perché per lei a me è stata molto... E' stata molto male, il cosplay mi ha aiutato molto a emergere. Ah, eccola. Ok, dai, l'importante è di divertirsi, l'importante. Eh, l'importante è poi il cosplay, comunque, è fatto anche molto bene, diciamo. Io non conosco i personaggi, però a guardarlo così mi pare fatto abbastanza bene. Ragazzi, in vostro giudizio scrivete nei commenti qua sotto come vi pare sto bel cosplay. A me, ragazzi, mi pare proprio un bel, fatto bene, fatto bene. Vabbè, e noi ci vediamo, ragazzi, andiamo ad affastanza a qualche altro cosplayer. Andiamo ad affastanza, che dici? Andiamo ad affastanza a qualche altro cosplayer. Ma tu invece perché c'è sotto sto cosplay? Perché stamattina alle 5 c'avevo il sonno, cioè non c'avevo il sonno, ho trovato la ditta per i capelli. Tu assomiglio a presto posso fare quel cosplay, tingendo i capelli e lo faccio. Cioè tu l'hai fatto stamattina mattina proprio. E tu invece perché c'è sotto sto cosplayer? Tu c'è un cosplayer, ragazzi. No, sono un coniglio. Beh, il coniglio. Io parlofono. Aspetta, il coniglio, a te ti è intervistato prima, già ti è intervistato. Il coniglio, perché questo cosplay, ragazzi? Di un videogioco. Di un video quale? Five Nuts a prendo. Il secondo. Il secondo. Ok, è la prima volta che venite qua, raga? Sì, alla seconda. Io andavo alla seconda. Guarda, guarda, vediamo tanto scopo. Sì. Ma che hai preso, zi? La luce italiana. Ma vedi la luce? Ma vabbè, l'oddio! E ora ragazzi, un'altra persona che stavo intervistare un pepale è lei. Come te chiami tu? Yook. Yook Skywalker. Sì, l'ho preso da lì. E perché stai con tutto il cosplay? Perché mi piace quello che tu sei. E che l'ultima fiera che sei andata, qual'è stata? Allora, è stato il RomX di aprire. E che hai portato? Sempre questo? No. Che hai portato? Ho portato un Atsuki di Doki Doki. Ok, vabbè ragazzi, non lo conosco. Se lo conosce, scrivetelo come sempre qua sotto nei commenti. E quindi oggi al mare niente. Non ti piace? Noi ci avevamo 200 metri, ci avevamo a armare raga. Vabbè, quindi ma con questi pantaloni lunghi stai a fare un po' la colla. C'è le pezzate? No, forse non è un credo sia proprio il caso. Diciamo, vabbè, non è un caso. A qualche altro cosplay, raga. Non è un caso, saluta, gara. Ciao! C'è sta pure... C'è sta pure post. Poi sono ibi, giusto? Ho azzeccato. Perché c'è questo personaggio? Io corro. Sì, sì, perché avevo voglia di fare una cosa potente. Almeno non fa la colla. Con questo caldo almeno non fa la colla. Come te chiami tu? Venezia. Venezia, dai sì, se vediamo dopo. E niente, raga, come potete vedere qua dietro c'è sta un skate park. Io se poco poco faccio una cosa del genere sto due mesi ricoverato in prognosi a ortopedia, diciamo, mi spacco tutto, mi spacco. Però questi, raga, sono proprio bravissimi, ragazzi. Stiti qui qua, ma... C'è qualcuno che fa qualche evoluzione. Vediamo sto tipo qua, vediamo come se lancia, vediamo come se lancia. Vediamo. Eh sì, buonanotte, zì. Vediamo che stavo ricoverato. Vabbè, raga. E quindi se anche voi sapete fare o skate, diciamo, andate a sti... Ecco, ecco, è caduto. Ecco, proprio così. Armo meglio. E quindi se anche voi, ragazzi, sapete fare queste cose qua o skate così, commentate qua sotto. Mi raccomando, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la cabana, e commentavo tutte le cose che dovete fare sempre. Noi ci vediamo, ragazzi, al prossimo video. Ciao, cari! Ciao, cari! Ciao, cari! Ciao, cari! Ciao, cari!